Larino piange l'ottava vittima del coronavirus. Si tratta di un uomo di 86 anni. A diffondere la notizia è il sindaco Pino Puchetti, il nostro concittadino, scrive il sindaco, è morto al cardarelli nel reparto malattie infettive dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il covid. Decesso non ancora inserito nel bollettino ufficiale dove invece ci sono altre due vittime, un 86enne di Campomarino ricoverato in malattie infettive e un 73enne di Campobasso deceduto al Gemelli. Il totale delle vittime sale così a 309. Sono sette i nuovi ricoveri, uno in rianimazione, tre i dimessi con i reparti covid che continuano ad essere super affollati, 78 i degenti, 69 malattie infettive, 9 in terapia intensiva e non si arrestano neppure i contagi, 112 su 1.271 tamponi processati con tasso di positività dell'8,8%, quasi 50 casi tra Termoli e Campobasso, 6 a Isernia, Montemitro e Santa Croce di Maiano, 66 guariti, 1.599 i casi attualmente positivi, 135.627 i tamponi processati dall'inizio dell'emergenza, 1.622 i soggetti in isolamento. Grazie a tutti.